Il fine settimana di Udinese TV ha vissuto un doppio appuntamento dedicato al calcio di lettanti. Sabato sera, a Fagagna, sul campo della pro del mister Zampieri, il fraibano del neo-arrivato Pino Cortiula è riuscito a vincere per 3-1 al termine di una partita che i gialloneri hanno sostanzialmente dominato soprattutto nel secondo tempo, facendo leva sulle incertezze dei padroni di casa, incapaci di gestire il gol del vantaggio. Per il fraibano, al secondo successo consecutivo, la vittoria a Fagagna vale la conferma della bontà dell'impianto messo a disposizione di Cortiula, che si candida sin d'ora come una delle potenziali protagoniste del campionato di promozione nel girone A. Sì, loro sono partiti molto forte, lo sapevamo, dopo la brutta sconfitta che hanno fatto la prima di campionato sapevamo che oggi avrebbero cominciato forte, soprattutto in un derby, sono stati bravi a venirci a prendere, hanno trovato il rigore, hanno trovato il gol, poi noi piano piano abbiamo provato a risalire, a prendere metri e fortunatamente nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiarla subito e poi abbiamo preso fiducia, loro si sono un attimino abbassati e siamo riusciti a portarla a casa, a fare prima il 2 e poi il 3 a 1. Mi dicevi che entrambe le occasioni, i falli da rigore, forse non c'era nessuno dei due, forse sì, però lì insomma dipende dai punti di vista. Secondo me, a percezione dal campo, non c'era nessuno dei due rigori. Poi sono episodi, noi giocatori sbagliamo, gli arbitri possono sbagliare, possiamo sbagliare tutti. Siamo contenti che la partita sia andata così, dobbiamo imparare dagli errori, di migliorare sugli errori e cercare di migliorare ancora di più quello che sappiamo fare bene. Siete imbattuti, prossima partita? Prossima partita col Torre in casa, partita sicuramente non facile perché loro sono una squadra che la gironea di promozione l'hanno fatto per tanti anni, sono navigati, noi in casa nostra non vogliamo far punti a nessuno, abbiamo questa intenzione quindi daremo tutto per riuscire a portare a casa i tre punti anche domenica. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Con mister Zampieri commentare una partita che avevate messo sui binali giusti, poi Trebano dice voi vi siete abbassati e ne hanno approfittato, dal tuo punto di vista invece come l'hai vista? Dal mio punto di vista abbiamo preso gol di nuovo dopo un minuto e dieci secondi del secondo tempo, su palla inattiva, di nuovo su palla inattiva, nonostante avessimo comunque provato anche durante la settimana le situazioni da palla inattiva a sfavore, siamo stati penso quasi 40 secondi solo per metterci a posto sulla linea difensiva, mio tuo, mio tuo, gol. Dopodiché purtroppo stiamo vivendo un momento un po' particolare quindi il gol preso ci ha demoralizzati e questo ci capita, ci è capitato anche le altre volte e non siamo più riusciti a reagire e non dovendo, non riuscendo più a reagire è chiaro che gli altri, insomma Flaibano lo conosciamo, paradossalmente l'altro gol l'abbiamo preso ancora su palla inattiva e quindi è un problema abbastanza grosso perché chiaramente abbiamo preso tanti gol e la maggior parte dei gol che abbiamo preso comunque vengono a palla inattiva. Le palle inattive si sa fanno parte dell'integrante di quella che è una partita di calcio, se noi non avessimo concesso occasioni così semplici, io l'infortunio del portiere lo tolgo perché comunque un infortunio può starci, il primo tempo aveva fatto delle parate che ci aveva comunque tenuto in vantaggio, quindi comunque le palle inattive non le stiamo proprio facendo bene in fase difensiva e poi si unisce un po' un crollo totale della squadra da un punto di vista mentale, andiamo in difficoltà e ci vengono a mancare tutte le certezze e di conseguenza diventa difficile, diventa effettivamente difficile. Mi stava detto che c'era qualche assenza che probabilmente pesava ma forse non è questo il dettaglio che contano. Scelte tecniche e tattiche in base a quello che vedo durante la settimana, in base a quello all'impegno e alla voglia che ci mettono durante la settimana, probabilmente dobbiamo fare tutti un grande bagno di umiltà perché probabilmente pensiamo di essere giocatori e squadra ma non lo siamo, non lo siamo assolutamente e si è visto proprio nella parte finale. chiaro se non facciamo questo saltino qua diventa diventa dura, ogni partita diventa diventa veramente come quella di oggi, cioè tu puoi andare in vantaggio ma non dai mai la sicurezza di poterla portare a casa, tutto qua. Mister, va detto che tanti episodi vi stanno un po' vessando ma sono già due sconfitte e la prossima partita comincia ad essere importante. Sono tutti importanti, si sa, il problema è il nostro percorso, abbiamo iniziato bene e adesso ci siamo clamorosamente fermati, ci sono venuti a mancare certezze, ci sono venuti a marcare quelli che sono un po' gli automatismi, siamo tornati indietro quindi invece di progredire siamo regrediti e quando vai in campo con paura e con timore di quello che succede è chiaro che poi becchi perché se non metti in campo la personalità, la voglia di essere superiore all'avversario poi le prendi. Prossima gara mister contro un'avversaria tostissima, che tipo di partita prevediamo? San Quirino è una neopromossa, viaggiano sull'entusiasmo, l'ho fatto il risultato anche oggi e quindi è chiaro che avranno dalla loro tutto quello che è l'entusiasmo che ti fa fare sicuramente delle cose, la corsa in più, tutto quello che noi attualmente invece non stiamo facendo quindi sarà sicuramente una battaglia durissima. Però comunque ci proviamo, siamo qua e chiaramente dobbiamo riuscire a risolvare questa situazione. Il traibano espugna Fagagna per 3 a 1, in inferiorità numerica resiste agli attacchi comunque abbastanza sterili dei padroni di casa, a piena coltura due partite di campionato, due vittorie, direi anche oggi una convincente prestazione. Ma secondo me abbiamo meritato di vincere, dopo non so, io la vedo così, nel primo tempo eravamo in svantaggio ma per un episodio loro hanno segnato il calcio rigore, noi abbiamo sbagliato ma abbiamo sbagliato altre 6-7 occasioni clamorose, quindi mi sembra che abbiamo avuto sempre la partita in mano, poi sul 3 a 1 siamo rimasti con un uomo in meno e non siamo andati a cercare altre novità, nel senso che ci siamo fermati lì e non penso che abbiano avuto grandi occasioni di all, anzi forse potevamo fare il 4 a 1 nel finale. Mi sembra che abbiamo meritato di vincere. Avevate impostato la partita in questo modo, avete sfruttato anche qualche indecisione della Pro, mi siete sembrati particolarmente efficaci proprio quando volevate puntare l'anniversario. No, abbiamo cercato di giocare in velocità, è quello che stiamo cercando di fare, dopo adesso siamo all'inizio e troppo presto per dire se stiamo bene o non stiamo bene o dove potremo arrivare. Comunque sono contento, peccato che sbagliamo troppi golle, questa è una caratteristica che abbiamo dall'inizio dell'anno, dobbiamo cercare di migliorare sotto porta per le occasioni che abbiamo, ma la squadra è molto giovane e quindi è anche normale, penso. Mister, non hanno pesato la fine, ma gli episodi sui due rigori come li valuti? Ma io non so, guarda, dove ero io? Io personalmente non avrei dato nessuno dei due, se fossi stato io, dopo il resto della mia idea. Loro l'hanno segnato, noi no, però non voglio valutare quel discorso lì perché ero troppo lontano per poterti dare una giustificazione, però ho visto la mia squadra oggi che ha creato diverse occasioni da gol e ha sempre avuto, secondo me, la partita in mano, dopo oggi stavamo meglio di loro e si è visto, insomma. Insomma, il dato di fatto è quello, quindi chi ha visto la partita può essere d'accordo con te. Due vittorie, chiaramente, hai iniziato benissimo il campionato, per arrivare dove? Con che ambizioni? No, ma ti ripeto come prima, è troppo presto per parlare. Noi abbiamo una squadra che è molto giovane, pecchiamo di qualcosa, stiamo cercando di costruire qualcosa, ma i giovani a volte fanno partite importanti come adesso e a volte pecano di inesperienza. Secondo me ci manca qualcosa per poter ambire ai primi posti, comunque andiamo avanti partita per partita. A proposito, la prossima? Eh, la prossima acceltore, è una partita difficile e poi devo anche rivedere qualcosa dietro perché è stato espulso il capitano Reghini e adesso vediamo cosa fare in settimana. Comunque è un'altra squadra tosta e speriamo di far bene. Domenica pomeriggio, invece, nella seconda giornata di campionato del torneo di eccellenza, a tricesimo i locali del mister Roberto Bortolussi erano chiamati a un riscatto dopo la sconfitta per 3-0 maturata per mano della Virtus Corno all'esordio in campionato. L'avversaria, il classe di Gianni Tortolo che nella prima gara della stagione aveva vinto per 6-5 il derby triestino contro San Luigi, era tutt'altro che malleabile, ma con gioco di squadra, buone geometrie e la doppietta di Balzano, il tricesimo è riuscito a cogliere il primo successo stagionale rompendo finalmente il ghiaccio. Sugli altri campi dell'eccellenza spicca il successo del Charlins Muzzane che ha battuto per 4-1 l'Itala San Marco con l'ennesimo gol del bomber Fabbro. Troppo forti i bassaioli del presidente Zanutta per le possibilità di un'Itala San Marco che è apparsa poco frizzante, soprattutto in fase offensiva. La tromba d'aria che ha devastato Lignano venerdì scorso invece ha costretto l'undici di Zecchinell all'inversione di campo con il Tor Viscosa. In ogni caso Cusin e compagni sono riusciti a cogliere un buon punto al tonello sul campo dei biancazzurri di Carpin apparsi sotto tono rispetto alle potenzialità della squadra del presidente Midolini. Il risultato più interessante della giornata è comunque il 3-1 con cui la gemonese del mister Pittilino ha battuto il lanciato lumignacco di Zoratti. Con una prestazione eccezionale dell'intero collettivo i pedemontani sono riusciti a fermare la corazzata udinese, dimostrando che al Simonetti di Gemona sarà difficile passare per qualsiasi squadra dell'eccellenza. Col goliador di giornata basano bene oggi, una partita che finalmente vi fa rompere il ghiaccio, ho dimenticato il 3-0 subito dalla Vitus Corna. Sì, no, l'importante era vincere perché eravamo partiti male domenica contro il Corno, l'importante era ripartire, siamo partiti comunque non benissimo perché siamo andati sotto però abbiamo avuto una bella reazione e siamo riusciti a vincere. Ho fatto notare al mister la tua buona partita non solo in fase di realizzazione con i due gol ma anche aiutando i tuoi compagni, hai fatto un gran lavoro e costo tantissimo, quindi complimenti anche per questo. Grazie, comunque dopo un quarto d'ora ero già colto il secondo tempo. No, buono, è un lavoro che chiede il mister, altri attaccanti, che siamo in pratica i primi difensori per lui, quindi per la squadra si fa questo e altro, per riuscire ad arrivare e al risultato si fa questo e altro. Due gol oggi, ma il tuo obiettivo personale qual è in questa stagione? Sicuramente andare in doppia cifra, quello sicuro perché è due anni che mi sfugge per problemini e cose così, se sto bene sono convinto che se sto bene e mi impegno posso farcela, dai. In bocca al lupo. Grazie, crepi. L'abbiamo definito uno dei migliori giocatori del ticesimo, fa partita di grande spessore e soprattutto però dopo il gol del crash, avete dovuto subire il gol per svegliarvi, come la mettiamo? Sì, ci siamo svegliati dopo il gol, però diciamo che abbiamo fatto una bella prestazione, soprattutto il secondo tempo, siamo stati fortunati a pareggiare prima della fine del primo tempo, diciamo che abbiamo dato una prova di carattere dopo la prima di campionato che avevamo perso male e avanti così, dai. Tu parli di fortuna, ma quel tuo sinistro calcio di punizione allo scadere del primo tempo lì era telecomandato? Sì, diciamo che è andata bene, forse il portiere si è buttato un po' dopo, però meglio così una volta che entrava sempre bene. Dimenticato 3-0 subito dalla Virtus Corno domenica scorsa? Sì, spero di sì perché quello deve servire di lezione che non accadano mai più prestazioni del genere. Dove potete arrivare quest'anno? Visto la rosa tanto giovane, una salvezza molto tranquilla e il prima possibile. E dal tuo campionato, dalla tua stagione, che obiettivi hai? Sì, ma diciamo sono uno dei più vecchi, spero di insegnare e portare qualcosa ai giovani e spero di continuare a divertirmi ogni domenica. Bocca dopo. Creppi. Il Kras esce sconfitto dal Giordano di Tricesimo con il mister Toltolo per capire il perché di questa sconfitta, mister. Dal tuo punto di vista che tipo di gara hai visto? Non abbiamo giocato, oggi non c'eravamo, non abbiamo giocato e questo mi dispiace perché non c'eravamo in campo, non eravamo con la testa, non eravamo con le gambe, non eravamo con niente, abbiamo trovato il vantaggio, non siamo riusciti a gestire nel migliore dei modi nel recupero del primo tempo e poi secondo tempo a parte cinque minuti e poi non ci siamo stati in campo più e purtroppo abbiamo pagato anche con un'espulsione, questo mi dispiace. Mister, non ci siamo sentiti dopo il 6-5 contro il San Luigi, ok per i sei gol ma i cinque gol subiti da una squadra di Toltoli io non mi ricordo a memoria, e anche oggi tre, e forse è quello il vero problema della classe. Sì esatto, dobbiamo lavorare sulla fase difensiva, fino adesso non è una scusa ma non siamo riusciti a giocare al completo, non è una scusa perché la prestazione di oggi non è da crash assolutamente, purtroppo stiamo lavorando, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto difensivo sicuramente, in due partite abbiamo preso 8 gol e c'è qualcosa che non quadra. Sicuramente Mister, meglio lesettare e ripartire dalla prossima partita a questo punto, appunto contro chi toccate e che tipo di partita ti aspetti? Beh, è una partita che è un derby, quindi ha aperto tutti i risultati dei derby, anche al novantesimo non è finita la partita, abbiamo visto domenica e domenica e sabato abbiamo un altro derby col Vesna, quindi dobbiamo solo lavorare e cercare di migliorare le situazioni perché secondo me non stiamo facendo bene e quindi dobbiamo, tanti errori, dobbiamo correggerli, sperando che in una settimana migliorare qualcosa. Ultima domanda, la scelta di andare ad allenare il Kras, a cosa è dovuta e qual è l'obiettivo per questa stagione? Sono andato a Kras perché mi hanno cercato, prima cosa è stata la prima società che è venuto a chiedermi dopo lo spareggio con la Manzanese, sono venuti a chiedermi, sono andato a Kras perché non ho mai lavorato in quella zona e quindi è un'avventura nuova, è un arricchimento personale e quindi sono andato anche perché la società non ha preso un giocatore, ha voluto tenere quelli dell'anno scorso con gli obiettivi di, in un paio d'anni, di giocare per i primi posti. Quest'anno la società mi ha chiesto solo di migliorare la posizione dell'anno scorso, se è fattibile, ma noi dobbiamo cercare di fare il massimo, poi alla fine vediamo qual è il massimo. Tricesimo vince per 3-1 contro il Kras, rompendo il ghiaccio in campionato con il mister Bortoluce che vi chiediamo se sia soddisfatto, oltre che per risultato, anche per la prestazione dei tuoi giocatori, mister. Sì, finalmente ho rivisto la squadra dell'anno scorso con la mentalità giusta e di fatto l'ho detto anche ai ragazzi che veramente mi sono piaciuti, al di là che poi abbiamo anche sofferto un attimino, il primo tempo è stata di marca del Kras, non c'è da nascondere, siamo andati un po' in difficoltà, però siamo riusciti a rimanere compatti e poi a lottare fino alla fine e poi nel secondo tempo siamo venuti fuori. Mister, mi è parso vedendo una partita che abbiate, dopo aver subito il gol, ha aumentato un po' l'aggressività, l'intensità, poi il gol di Favero ha rimesso a posto le cose, secondo tempo solo tricesimo. Beh, solo tricesimo è una parolona secondo me, comunque il Kras ha dei meriti perché è una buona squadra, ha dimostrato oggi, noi siamo stati fortunaggi su tutto quello che abbiamo fatto, ma soprattutto ci abbiamo creduto come non mai, secondo me siamo stati premiati, però nello stesso tempo abbiamo giocato come sappiamo giocare. Facciamo un passo indietro, mister, il 3-0 sulla Virtus Corno, che tipo di partita è stata e oggi cosa è cambiato, solo l'atteggiamento o cos'altro? La mentalità, secondo me dipende tutto dalla testa e quindi di conseguenza dimentichiamo, abbiamo dimenticato per fortuna oggi con la vittoria di oggi la sconfitta di domenica perché a me sinceramente ancora brucia con tutto rispetto per la Virtus, ma parlo della mia squadra e secondo me se giochiamo con questa mentalità ce la possiamo giocare con tutti al di là del risultato, domenica non era il ticesimo che conosco. Ho detto Bazzano a parte due gol, una partita molto generosa anche in fase di contenimento, ha dato anche una mano ai suoi centrocampisti e anche Favre ha giocato un partitone oggi. Ma io credo che la squadra abbia fatto la partita, Bazzano se vuole giocare deve fare sacrificio come tutte le altre punte, quindi se rimane su là a me non va bene, quindi è giusto che facciano sacrificio per tutti e poi alla fine tutto quello che hanno e poi butto dentro quelli freschi per ottenere la stessa cosa. Prossima gara? Prossima gara andiamo a Gradisca e adesso vediamo un attimino, spero di recuperare perché anche oggi eravamo contati, spero di recuperare qualche infortunato, però mi auguro che la testa dei ragazzi rimanga questa e che è quella che ha fatto la differenza l'anno scorso. Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia della Federcalcio ha disposto gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. Per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza, che assegna anche quest'anno nella stagione 2016-2017 il trofeo Diego Meroi, in base ai risultati conseguiti nelle gare del primo turno di qualificazione, sono arrivate ai quarti di finale il Charlie Smuzzane, il Comunale Fontana Fredda, la Gemonese, il Lumignacco, il Crash Repping, il Torviscosa, il Tricesimo e il Vesna. Come previsto dal regolamento, le squadre sono state abbinate tra di loro con un sorteggio che è stato effettuato il 13 settembre nella sede del Comitato Provinciale di Udine. Il sorteggio ha dato il seguente risultato. Il Crash Repping ospiterà il Charlie Smuzzane, il Lumignacco ospiterà il Vesna, il Fontana Fredda, se la vedrà con il Torviscosa, la Gemonese, chiuderà con il Tricesimo. Le gare si disputano sul campo della prima nominata e sono in programma mercoledì 5 ottobre alle ore 20.30. Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45 minuti l'uno e saranno ad eliminazione diretta. In caso di parità, al termine dei regolamentari, si procederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore. Le quattro squadre vincenti dei quarti di finale accederanno alle semifinali il cui calendario è ancora da definire. Per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione, che anche nella stagione 2016-2017 assegnerà il trofeo Aldo Tortul, in base ai risultati conseguiti nelle gare del primo turno di qualificazione, sono andate agli ottavi di finale Casarsa, Costa Lunga, Fraibano, Juventina Sant'Andrea, Profagagna, Progorizia, Ronchi Calcio, San Vittese, Fiume Veneto Bannia, Gonars, Prata Falchi Visinale, Pravis Domini, Procervignano Muscoli, Procia, Sistiana Duina Urisina e Torre. E come previsto dal regolamento, le squadre sono state abbinate tra loro con il sorteggio sempre effettuato il 13 settembre. Gli abbenamenti definiti dal sorteggio vedranno di fronte mercoledì 5 ottobre, Juventina Sant'Andrea contro Procervignano Muscoli, Procia contro Profagagna, Progorizia contro Sistiana Duina Urisina, Prata Falchi Visinale contro Flaibano, Casarsa contro Fiume Veneto Bannia, Torre contro San Vittese, Ronchi contro Gonars e Pravis Domini contro Costa Lunga. Anche in questo caso le gare si svolgeranno in due tempi da 45 minuti l'uno a eliminazione diretta e in caso di parità al termine dei regolamentari si procederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore. Le otto squadre che vinceranno le gare del 5 ottobre accederanno ai quarti di finale della Coppa Italia di promozione. L'Atalanta ha vinto la 31esima edizione del trofeo Nereo Rocco, battendo nella finalissima dello stadio Colaussi di Gradisca, Lempoli. Gli Orobici, che hanno eliminato l'Udinese nei quarti di finale vincendo per 5-0 la sfida giocata sabato sera allo stadio di San Sergio a Trieste, si sono qualificati all'atto conclusivo battendo poi per 3-0 il Milan nella semifinale. Lempoli aveva invece staccato il biglietto per la finalissima battendo nella semifinale ai calci di rigore il Rieca che aveva vinto a sua volta il girone A di qualificazione proprio davanti a Udinese, Juventus e ai giapponesi del Kashiva finiti fuori classifica. Senza storia la finalissima di Gradisca, Atalanta padrona del campo fin dalle prime battute di gioco e l'assegno già dopo un paio di minuti. Poi, nel proseguito della partita, Lempoli non è mai riuscito a essere pericoloso dalle parti del portiere bergamasco. Solo nel finale di gara, la formazione di Birindelli ha prima segnato il gol della bandiera e poi, dopo aver subito il quarto gol per opera dell'Atalanta, ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto fissare il 4-2 finale. Con il 4-1 l'Atalanta si porta a casa, oltre alla vittoria del torneo, anche il premio di miglior giocatore, al numero 7, Peli. Mentre il portiere dell'Empoli, Andrea De Carlo, capace anche di parare un calcio di rigore, ha conquistato il titolo come miglior estremo difensore. A fine partita, l'allenatore dell'Atalanta, Brambilla, esprime tutta la sua soddisfazione. Ma sì, ne parlavamo col dirigente che, a parte che adesso l'Atalanta erano tanti anni che non veniva a fare questo torneo. È un motivo d'orgoglio in più, la prima volta che l'abbiamo vinto, anche questa è una soddisfazione.